Le maghe del cuore sono un metodo che utilizza otto simboli, otto simboli che sono diventati otto personaggi. Perché li ho fatti diventare otto personaggi? Potevo mantenere dei simboli? No, perché in realtà attraverso i personaggi noi ci identifichiamo meglio e comprendiamo prima quale di questi otto personaggi può essere effettivamente il più adatto a noi, a rappresentare la nostra personalità e quindi vedendo cosa accade a lei possiamo capire cosa accade dentro di noi. Quindi se sei una donna vedi quale di queste otto maghe ti rappresenta di più, invece se sei un uomo prova a vedere quale di queste maghe in qualche modo ti attrae di più. Inizia a scoprirle insieme a noi guardando i prossimi video e comunque incontrerai già le prime informazioni sul sito www.lemagedelcuore.com